Ciao ragazzi, questo è un breve video per informarvi che domani, sabato 20 ottobre, alle ore 6, alle ore 18, ci sarà una live qui sul canale Ci saremo io e Algisius e vi daremo alcuni aggiornamenti sulla Chrome, su come sta andando il tutto, su come stiamo facendo progressi E perché no, darvi qualche informazione in anteprima Non so quanto può durare la live, dipende anche da voi, magari sulle domande che ci fate, sugli argomenti che tiriamo fuori Quindi comincia alle 18, poi non si sa, ma penso che massimo un'ora e mezza circa sia la durata della live Quindi niente, accorrete i numerosi, spero siete il più possibile E non c'è niente altro da dire, ci becchiamo domani alle 6 qua in live Ciao ragazzi Ciao